Oggi nuova assemblea del personale a Palazzo del Carmine, i problemi sono sempre quelli? Sì, sono sempre quelli perché non abbiamo ancora finito con la nostra avvertenza. Questa è solo la seconda tappa di quello che è stato il sit-in la settimana scorsa, il Consiglio Comunale con le risoluzioni e le determinazioni della Giunta e oggi facciamo un po' il punto della situazione e decidiamo che cosa fare. Quindi l'assemblea insieme a noi converrà su tutti i passi successivi che dovranno essere fatti, ossia la richiesta di un tavolo di raffreddamento verso la prefettura proprio per affrontare insieme alle parti coinvolte, quindi l'amministrazione stessa, questo problema della rotazione che sta dando enormi difficoltà al personale e alla macchina amministrativa e poi altri problemi come il fondo di produttività, le particolari responsabilità, lo straordinario elettorale e tutta una serie di vicende che naturalmente fanno da corredo all'intera macchina organizzativa. Da un tavolo di raffreddamento può arrivare la soluzione? Sì, un tavolo di raffreddamento a nostro giudizio può arrivare una soluzione in quanto a esso partecipano le controparti, cioè quindi il comune e il sindacato, ma la presenza di sua eccellenza il prefetto. È un tavolo governativo. Noi abbiamo molta fiducia in questo strumento che già altre volte ha portato ad ottenere dei risultati. In questo caso già la convocazione sarebbe un risultato, in modo da poterci confrontare direttamente con la parte politica e amministrativa di questo ente. A noi quello che preme è il confronto, il confronto come metodo, perché riteniamo che solo attraverso il confronto possiamo arrivare ad ottenere un risultato. Certamente il sindacato, per sua propria natura, non si alza mai dal tavolo. È stata massiccia la partecipazione all'aula consigliare. Questo significa che i temi sono particolarmente sentiti dai dipendenti? Sì, questo è un aspetto importante, fondamentale da sottolineare. Significa che le persone sono stanche, che i lavoratori sono ormai insoddisfatti. Non c'è effettivamente quell'area di benessere, serenità, così come dice l'amministrazione. In realtà noi abbiamo sollevato un problema che è a cuore di tutti. Quindi la partecipazione personale, questo a noi ci dà la riprova di questo. Siano essi interessati personalmente che in maniera collettiva. Quindi è un segnale importante da portare avanti. E noi, con forti di questa partecipazione, li sosterremo fino a che troveremo una soluzione a questa problematica. Nell'immediato, oltre al tavolo di raffreddamento, quale sarà la prossima puntata? Domani c'è stata convocata una delegazione trattante che ha temi però diversi, il salario accessorio. Dobbiamo dirlo qui, prima di dirlo domani, visto che ne abbiamo l'occasione. Noi l'abbiamo già contestato negli anni scorsi. Non è possibile che il salario accessorio possa essere contrattato, definito alla fine dell'anno. Perché noi non abbiamo altro da fare che ratificare quello che ha fatto l'amministrazione. Non è questo il ruolo del sindacato. Il ruolo del sindacato è diverso da stabilire a priori le regole a cui poi tutti ci dobbiamo attenere. Così è un modo perché l'amministrazione decide in maniera univoca e noi che ruolo svolgiamo. Non intendiamo delegare a nessun altro il nostro ruolo. Forte anche, come diceva la collega, di questa partecipazione all'Assemblea. I lavoratori sono stanchi e certo questo non influisce in maniera positiva per il cosiddetto bene organizzativo, che è il modo in cui funziona la macchina, in questo caso l'ente comune.